Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in questo nuovo video un po' particolare insomma perché ci vedete in una posizione simile a quella del video di Halloween è proprio perché vogliamo fare una live reaction su 5 video inquietanti della parte strana di YouTube la classifica più o meno l'abbiamo decisa noi, abbiamo trovato due video a testa tranne Davide che ne ha trovato uno perché insomma devono essere 5, sono dispari e insomma io direi già di partire con il primo video, vediamo il primo video l'ho trovato io, si chiama Little Babies Ice Cream ed è praticamente una pubblicità non so che hanno di un gelato per l'appunto una pubblicità americana di un gelato che è molto dubbia, guardate per la partecipazione del mio peore, guardate le peore, guardate le peore, guardate le peore, guardate i amici Little Baby's Ice Cream It keeps me young It keeps me light on my feet I spring from activity To activity I love my job I love my life When you eat Little Baby's Ice Cream You'll wink and nod And hug And high five each other With great enthusiasm This is a special time Little Baby's Ice Cream Ice Cream Is a feeling Non ci sono Non chiamare l'indagare Il secondo video si chiama Ratboy Genius E' più o meno conosciuto Però Più a un certo punto Vediamolo e abbiamo il perché E' diventato così famoso È la parte strana di YouTube È la parte strana di YouTube Do signo Po-ti-to-cani-shis 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 I love po-ti-to-cani-shis 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 into little black squash balls this is where i make centipedes i sure love to make centipedes i turn little black worms into centipedes i turn little black worms into centipedes a luna magia si è magico e cringe da quello che so io dovrebbe essere l'ospensione del secondo episodio in una serie che sta su youtube e non lo so immaginare tanto è un mix appunto tra modelli 3d fatti malissimo fatto con non so quale programma e poi minecraft e non è più gmod questo non credo proprio che sia gmod no no sotto programma di gmod il terzo video l'ho trovato io è l'ultimo di quelli miei praticamente è un video un po inquietante io sinceramente l'ho già visto e non ho capito se quelli sono effetti speciali se sono effetti speciali sono fatti benissimo per essere un video inquietante se non sono effetti speciali c'è qualcosa che non va che cosa è un video Sì 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 Mi aspettavo di peggio in realtà però comunque al suo perché nel senso negativo positivo del termine dipende come lo puoi prendere C'è Allora escono fuori ste braccia qui dalle pareti gli effetti speciali se sono effetti speciali sono fatti benissimo Complimenti alla persona che l'ha creato vuol dire se Boh E' cringe pure questo qua perché non è proprio horror la raffin film Quest'altro video invece è E' difficile da descrivere E' praticamente un video fatto da un canale che fa video simile a questo ovviamente Che ha uno stile simile Vapor MS Paint Fatto con Paint appunto Sì 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 I am very hungry for some cheese I could really hope for some cheese Like about now I highly enjoy cheese It contains lots of hearts So bitterly beet oil Bitterly beet oil is very good for you It is very healthy In order to capture the past I must insert the cheese into the cage He will be impulsed and I am collision Oh look, I have found some cheese But it has still been cheap I will now grab the cheese Oh no, I have been locked inside a big cage I must escape This must be the work I've done Tom, you were okay You wouldn't be forgiving me I must now take you with me You were the least to end of the ending Delight from a superficial comprehension of life Oh everyone can see Oh, everything too Once you make that Bitterly Oh, it's all that Oh there's a joke Is everybody I've had a day Anche questo Ha un che di magico Beh, adesso hai deciso tu di fare sto video Ma è questo che voli Eh, questo è avuto Siamo contenti di averti reso felice Vabbè, e concludiamo con uno dei canali forse più famosi di questo genere Animazione 3D, quella fatta bene Cool 3D World Alla prossima 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 Alla prossima